Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo ALS0013 che Fortnite quando vai ad avviarlo non si avvia ed esce questo errore quindi in questo caso bisogna fare una verifica all'installazione oppure reinstallare di nuovo Fortnite su un altro disco oppure direttamente possiamo fare andiamo sulla cartella appdata quindi vai a scrivere qua sotto esegui entriamo così nella cartella appdata vai su appdata local scendiamo fino a giù fino a trovare così la cartella di Epic Games Launcher andiamo su save cancelliamo così la cartella web cache trattino basso 4430 se non dovesse funzionare è possibile rimuovere del tutto la cartella di Epic Games Launcher Fortnite Game e se ci sono altre cartelle che collegano così Epic Games ed eccola qua torniamo indietro vai su roaming scendiamo fino a giù fino a trovare così la cartella di Epic Games qui non c'è nessuna Epic Games Fortnite non c'è vai su local vediamo se qua c'è la cartella di Fortnite oppure di Epic Games qui non c'è niente una volta fatto chiudiamo un attimo qua ora andando su Epic Games dobbiamo rifare l'accesso quindi dobbiamo rifare l'accesso al nostro account quindi o usi il tuo account Google PlayStation oppure usi il tuo account Epic Games fai l'accesso ed entri su Epic Games quindi rifacciamo così il nostro accesso alla nostra piattaforma una volta fatto l'accesso andiamo così nella libreria di Fortnite eccola qua ecco Fortnite tre puntini gestisci entriamo così nella sua cartella Fortnite Game Binaries 64 scendi fino a giù fino a trovare il Fortnite Launcher.exe mostra tre opzioni eseguiamo questo programma come amministratore esegui questo programma come amministratore e fai applico una volta fatto fai la verifica al gioco una volta fatta così la verifica avviamo Fortnite e Fortnite si sta avviando senza nessun problema per altri problemi ancora chi riscontra i problemi all'avvio di Fortnite in descrizione ci sono un link che ti porteranno su altri video su come risolvere gli errori all'avvio di Fortnite li troverai direttamente in una playlist piena di video su Fortnite tutto nelle schede grazie a tutti 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 Ciao.